Valentina e Ondra Allora, hanno aperto con questo triplo loot, ottimo perché i GOI positivi il triplo free planciato ottimo con i GOI positivi solamente doppio il loot twist ma era quello calcolato sollevamenti di livello 4, tranne quello che hanno sbagliato la trottola di livello 4, la trottola quella in parallelo Choreo Sequence con un più uno di GOI i vari sollevamenti, il triplo salco, quasi più due nei GOI per cui è piaciuto tantissimo questo elemento e poi l'errore nel sollevamento però mi sembra che abbiano i component migliori Vanessa James, Malkan C-Press Triplo loot twist maestoso Triplo tolup, doppio tolup, doppio tolup Triplo salcov, salvato da entrambi, sia da Vanessa che da Morgan Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E triplo flip lanciato. L'atterraggio troppo in punta. Grazie a tutti. Wow! Wow! Triplo salco planciato altissimo. Guardate, avete visto proprio il gesto di soddisfazione di Morgan Cipres in questa parte finale. Davvero Vanessa James e Morgan Cipres hanno fatto un grandissimo programma con una sicurezza. Probabilmente anche caricati dal fatto di aver visto che potevano sicuramente andare a recuperare sulle coppie davanti. Vediamo, loro erano dodicesimi dopo lo show program.